Vince la formazione dell'Abba Pineto 3 a 1 contro il Sama Porto Maggiore, una partita difficilissima, partita col piede sbagliato, 22 a 25, poi il resto ancora 22 volte e 23 un altro set quello in mezzo. Franco Bertoli, partita complessa, i playoff sono sempre un'altra cosa. Sì, sono un nuovo inizio, sono difficili, noi chiaramente avevamo la pressione perché giocando in casa a gara 1 era importantissimo vincere, portare a casa risultato, infatti abbiamo cominciato con tratti ma a parte questo è stata una partita tiratissima, bellissima, lottata palla su palla e sono contentissimo soprattutto della mentalità, del modo in cui siamo stati in campo, comunque lottando palla su palla alla fine siamo stati premiati. Avrei tante cose da chiederti Franco, però mi permetti una nota particolare per un certo Jakob Ling perché non soltanto ha raggiunto quasi 30 punti, si è avvicinato di tanto, ma è stato un trascinatore per i suoi, li ha visti un po' spenti, li ha presi uno per uno, dice forza ragazzi ce la dobbiamo fare, è stato un autentico punto di riferimento. Sì è vero, è stato un punto di riferimento, bravissimo però bravissima la squadra, ho visto una bellissima squadra. Chi ha reagito giustamente, come doveva? Presenti da Mattia al palleggiatore, l'alzatore ha dato palla a tutti, anche Matteo Bertoli si è preso le sue responsabilità, bravo del campo ad entrare al posto di Pier Vito, quindi è stata una bella prestazione di squadra con la ciliegina della grande prestazione di Ling, ma partite come queste senza squadra non si vincono. Grazie a tutti.